Allora Dovremmo provare un po' abbassato il volume di gioco Vediamo se così almeno si sente un po' più la voce che il volume di gioco Se no Un po' un po' Fuck you Guarda di sto qui scops Troppo forte Questo gioco oramai c'è chinare Troppo semplice avete visto I qui scops sono troppo una cazzata I cecchini Oltre a darti un aim assist da paura Da paura Cosa succede? Che il gioco è molto più lento E' proprio legnoso come gioco rispetto magari a un call of duty capito Che c'ha Che c'ha molto più movimento E quindi la gente Devi sparare il colpo di cecchino in base a dove si muove il tuo avversario Quindi è molto complicato su un gioco così veloce Su destiny purtroppo Questa cosa Non è È totalmente l'inverso Cioè Visto che il giocatore riesce difficilmente a schivare Questo l'avevo preso eh Questo Questo l'avevo preso Quindi è molto È molto più semplice non mancare il bersaglio Especialmente fare anche Degli headshot così Non è poi così difficile Basta che ci prenderete un po' la mano Nulla di che ragazzi eh Comunque è usare il cecchino su sto gioco che non dico che è un pro player dei miei coglioni Perché Comunque è molto semplice Potevo fare una doppia di Ho messo a risparare Comunque ce l'avevo detto Standardo Pieno di gente Non scarsa Sai me Da tutta gente con grimorio alto Ed è un po' più difficile giocare È molto competitivo ormai Questo mi ha shottato col suros Vabbè ragazzi Che vi devo dire È connessione gialla Questo è il gioco ragazzi Questo è il gioco Vesco Vesci un attimino a giocare Che succede Ti switcha la connessione Dal niente Comunque sto su lo sta diventando È un cancro quest'arma Ma che cazzo fa shottarmi così Mamma mia ragazzi Mi sto già incazzando Ma dov'è sto camperone Porca miseria Minchia Non li vedi L'avevo preso Dai Ma ragazzi Questo qui l'avevo preso Col cecchino Già la terza volta Che il cecchino Ora mi dà la connessione verde Spero anche io Non riesco a giocare Non c'è neanche più Munizioni speciali Grazie gioco di merda Tre cecchinate Che non beccavo il bersaglio Vediamo un po' il mira Va Mi incazzo veramente Oh me lagga però Madonna Bonina Ma che cazzo di nervoso Guarda Che cazzo di nervoso Aveva meno di metà vita Come ha fatto a non morire Ragazzi Spiegatemelo Spiegatemelo Assurdo Per liste pesanti Disgraziato Lo sapevo io Ma Prendiamo le speciali Ottimo Perché siete dei deficienti Di voi altri Questo gioco fa schifo Guardate i loro pimi Come faccio a giocare Una partita in cui Loro sono rossi E ci hanno lost Spiegatemi questa cosa Spiegatemi questa cosa Questo gioco fa Cagare Ecco perché non riuscivo a giocare Perché cecchinavo E non prendevo alla testa la gente Dopo il primo minuto È diventato ingiocabile La lobby Questo è il matchmaking In base alla connessione Ragazzi Questo è Destiny Un gioco di merda Totalmente di merda